che disastro c'è la lazio e siamo nella melma che si è ancora convalescente ha persino la mano infortunata non riesce a firmare il rinnovo e girou che aveva appena iniziato a metterla è già in quarantena beh ma ti abbiamo preso messias con la sfortuna che abbiamo ci vorrebbe quello vero ma zlatan quando torna calcio è divertente ma festival di più voglio farmeli tutti dopo sanremo ora festival di cinema di venezia e poi fiera di tartufo di alba e sagra di castagna in valbregaglia bella venezia e di sabè stai parlato con me acqua da tutte le parti un po come centrocampo di allegri e dici posso essere io star di prossimo film zlatan e furios 11 non ti tenco da zlatan il più grande attore di calcio italiano sono io ho vinto l'oscar per manette zero titoli e quest'anno con dai e roma questa sosta per la serie a che noia non possiamo giocare tutte le settimane con la lituania sentiamo il capitano chiello ma a sti mondiali dobbiamo proprio andarci ma cosa dice mister ma chi ce lo fa fare abbiamo già vinto gli europei e poi giocano in dicembre in catar fa caldo perché non ci mandiamo gli svizzeri ma è per questo che ha fatto tirare rigore a giorginio c'è lì giro ma lo passi eccomi mister sono già pronto per la sfida col milan li facciamo rossoneri ma cosa fai ancora con la maglia azzurra levala subito che con quella non segni manco per sbaglio e questi capelli sono pronti ma se mi da ancora qualche minuto che rispareggio il pareggio e poi la mando a casa